Si tratta di un'iniziativa legata al mondo dei mutui casa, diciamo un segnale importante in un momento economico complicato, un segnale di vicinanza che il gruppo italiano, il gruppo Caripalma e Carispezia vuole dare in un momento difficile, quindi un plafond di oltre 2 miliardi e mezzo a livello di gruppo destinato a mutui prima casa, seconda casa e ristrutturazione per le famiglie, quindi un segnale di vicinanza alle famiglie, mutui casa fino a 30 anni con l'ontoveglion, quindi una percentuale di finanziabilità fino all'80%, diciamo che vogliamo essere anche qua un po' controcorrente ma essere vicini alle esigenze del territorio in un momento che è complicato ma per il quale contiamo di poter essere protagonisti assieme ai clienti e alle famiglie per un rilancio immediato. Carispezia a livello di mutui casa per le famiglie ha registrato nel 2011 un erogato in crescita del 30% rispetto a una media nazionale in calo del 7,5% e una media regionale in calo del 20%. Se poi restiamo sulla nostra provincia principale, cioè su Spezia, Spezia ha registrato un trend del meno 10%, quindi Carispezia è cresciuta, oltre 100 milioni di erogato in un anno difficile e la testimonianza di due cose, vicinanza alle famiglie e politica commerciale adeguata. Vogliamo provare a farlo anche quest'anno, sappiamo di essere un po' con controtendenza ma io credo che poter essere banca del territorio voglia dire esserci anche in momenti come questi e essere anche un po' un traino in un momento economico difficile. Noi vogliamo essere sul territorio e quindi a fianco di tutti, quindi giovani, famiglie, chi è in un momento difficile ma chi ha la voglia di provare un investimento in un momento come questo. Carispezia vuole esserci, i nostri uomini e le nostre donne sono a disposizione dei clienti e vi attendiamo.